Selva di Trissino, nelle colline vicentine, ha ospitato la Gnocco Bike Cross Country, valido come penultima prova del circuito Veneto Cup. Numerosi biker pronti a sfidarsi su di un percorso molto tecnico ed impegnativo, reso ancora più insidioso dalla pioggia caduta nella notte. Da subito tra gli Open prende il comando della gara Enrico Franzoi, seguito da Moreno Pellizzon e dal cileno Nicolas Adaos Alvarez. Nei giri successivi continua il forcing di Enrico Franzoi, mentre il cileno Nicolas Adaos Alvarez si porta in seconda posizione. Sembra fatta per Enrico Franzoi, ma a sorpresa il primo a presentarsi sul rettilino d'arrivo è il cileno Nicolas Adaos Alvarez, mentre Enrico Franzoi è costretto a tagliare il traguardo a piedi per la rottura della catena a un chilometro dal traguardo. Terzo assoluto è Alberto Lenzi, davanti al compagno di squadra della Rudy Project Moreno Pellizzon. Nella gara femminile dominio assoluto per Giorgia Marchette, che si impone su Noemi Pilat e Luisa De Lorenzo Poz. Nella gara femminile innombra è Tutta l'idea Mundo Spiturian,